Il processo erano presenti i genitori di Carmela Morlino, al nostro microfono il papà Matteo ha parlato dei due figli della coppia che vivono lontani dal Trentino e hanno bisogno di cure continue. Ha usato parole forti dicendo che le istituzioni sul problema del femminicidio oltre che a parlare non fanno niente. Sentiamolo. Noi siamo soli, soli, soli come tutte le vittime perché anche ciò che sta avvenendo qua dentro si preoccupa del carnefice, non si preoccupa minimamente tutto ciò che sta avvenendo qua dentro ma anche le istituzioni non si preoccupano minimamente di ciò che stanno patendo le vittime che non è solo mia figlia la quale gli è stato tolto il diritto alla vita ma anche noi, noi moriamo ogni giorno, ogni giorno. Da quando ci svegliamo la mattina sappiamo già che dobbiamo passare una giornata di dolore.